Ben tornati, occhio alla notizia, occhio ai giornali, con l'informazione di prima mattina Sono le 7 e questa è la rassegna stampa, o meglio il commento alla stampa del giorno Ben ritrovati, allora partiamo subito perché abbiamo tantissime pagine questa mattina da guardare insieme, da commentare Cominciamo dal Santo, poi andiamo a vedere subito il tempo Oggi è Santa Francesca Romana, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà 8 minuti dopo le 18 Tempo perturbato con pioggia, oggi avremo deboli piogge persistenti nel settore centro-meridionale Con accumulate più abbondanti nelle province meridionali Fenomeni più intermittenti invece nel settore settentrionale, quindi nel pesarese, con accumulate deboli C'è anche la neve intorno ai millimetri, domani invece torna il cielo sereno con poche nuvole Anche giovedì il tempo è buono con temperature che sono in diminuzione Ci sono gelate diffuse giovedì in nottata, inizio mattinata Poi il tempo sarà variabile ma lo vedremo nei prossimi giorni Allora domani saremo in lockdown, zona rossa, la provincia di Peso Urbino così come quella di Fermo Il primo titolo del Corriere Adriatico di questa mattina, edizione pesarese Acquaroli ha firmato l'ordinanza che istituisce la zona rossa in provincia di Pesero fino a domenica Chiusi gli esercizi salvo quelli di prima necessità Sospese tutte le scuole, limitati gli spostamenti individuali I vaccini si cambia, postazioni anche all'ex Ristò Siamo all'interno dell'Iper Rossini di Pesero per i piccoli negozi Intanto da domani con il lockdown, il colpo di grazia inferto da gennaio Viaggia in autobus invece con le roine in bocca Un negoziante arrestato Affano, appello degli amici di Don Achille Salvate San Leonardo Ancora dal Corriere pesarese Gli uomini delle istituzioni contro la violenza di genere Sindaci e Presidente della provincia Al Flash Mob per la giornata internazionale delle donne Ovvero quello che c'è stato in piazza 20 settembre ieri Affano e poi Pier Santi, il poeta Fa 80, le mie poesie dice che nascono a voce alta Il Carlino di Pesero Andiamo a vedere la prima pagina Da domani scatta la zona rossa Acquaroli rompe gli indugi Durerà per ora fino a domenica Dobbiamo frenare la crescita dei contagi Si richiude, ecco le regole Spostamenti, sport, negozi e scuole Cosa si può fare e cosa non si può fare Casa divorata dalle fiamme Commerciante d'arte fanese Muore in provincia di Bergamo E poi vaccini La svolta si faranno nell'ex ristorante dell'Iper Rossini A Villa Fastigio invece Un focolaio in carcere Detenuto ricoverato in rianimazione Il virologo Bisognava intervenire prima Un'intervista E poi la villa di Valentino Rossi Tutta regolare E la radio di Pesero Radio Veronica Che ritrova la voce Molto da dire Dicono in conferenza Da oggi ricominciano le trasmissioni E la programmazione in diretta Carlino di Ancona Un 8 marzo in prima linea Festa della donna particolare Per le infermiere anti-Covid Ma la notizia di apertura È tutt'altro che È tutt'altro che rose e fiori Torrette Chiuso il pronto soccorso Decisione senza precedenti In serata Stop e ricoveri di pazienti Covid Ambulanze dirottate A Civitanova Marche E allora Entriamo nelle pagine interne Cari telespettatori di Fano TV Cominciamo questa lunga carrellata Di pagine Tutte dedicate ovviamente Alla situazione pandemica Nella nostra regione E in particolare Nella provincia di Pesero E Urbino Mettiamo subito le mani avanti Non sarà una passeggiata Pesero è fermo Zona rossa Ora timori per l'Ascolano Rinforzi per i tracciamenti Acquaroli firma l'ordinanza L'attacco del PD Tutta la regione in lockdown La regione assume 30 tecnici per sostenere Il contact tracing Dell'Azur Il governatore Quellori ha firmato Dunque Quest'ordinanza La numero 10 Con la quale istituisce La zona rossa Nelle province di Pesero efermo Dopo Ancone e Macerata L'aumento O meglio L'aumentato livello Dei contagi E la pressione Sugli ospedali Hanno reso Indeferibile Il provvedimento restrittivo Che sarà valido Per 5 giorni Fino a domenica Si guarda Con preoccupazione Agli indicatori Epidemiologici Sanitari Della provincia di Ascoli Che per ora Però rimane arancione Intanto Roma Per frenare La diffusione del virus Annuncia a giorni Un nuovo DPCM Con arretramento Del coprifuoco E weekend chiusi Cosa significa? Significa che oggi Il coprifuoco Nazionale alle 22 Si pensa di anticiparlo Di qualche ora Forse le 8 di sera Intanto La notizia è sempre Dal Corriere Che l'assessore Giorgia Latini È positiva al virus Al coronavirus Per ora Ho solo sintomi lievi Dice lei Su un post Poco dopo le 21 Ha postato Questo comunicato Dicendo Di essere positiva Al covid Spero passi tutto presto Il prima possibile Per ora Ho solo sintomi lievi Ieri mattina Intanto aveva partecipato La giunta collegata Però al computer Da multicolor Invece a tinta unita La parola passa al governo Se decide il parametro Dell'incidenza Scatta il lockdown Su tutto il territorio Dunque anche sulla provincia Di Ascoli Piceno Intanto ad Ascoli Così come affermo Debutta il 112 È possibile scaricare Anche l'applicazione dedicata Poi Il vaccino La questione dei vaccini Non se ne esce fuori Cari telespettatori È ovvio Ormai è assodato Senza la copertura vaccinale E allora Il contrasto al covid Nelle marche Abbiamo un riquadro Che ci dice subito In pochi istanti A colpo d'occhio Com'è la situazione In questo momento Le vaccinazioni Intanto con AstraZeneca Il personale scolastico Che ha avuto 5.500 somministrazioni Su una platea Però di circa 33.100 soggetti Sono stati vaccinate Anche i poliziotti I carabinieri Le forze dell'ordine In generale 3.741 somministrazioni Su circa 11.000 soggetti Poi Questo con AstraZeneca Mentre con Pfizer e Moderna Chiaramente Ormai sappiamo bene Tutti Il personale sanitario 58.4643 Anche quello non sanitario 22.000 errotti Le case di riposo 8.647 dosi somministrate Di Pfizer Moderna E coloro che hanno Più di 80 anni Loro prendono solo Il Pfizer Moderna Non possono prendere l'altro AstraZeneca Perché è fino ai 75 65-75 anni 43.898 Ma attenzione La notizia Credo importante Che nelle Marche Anche i soggetti fragili Stanno ricevendo Le somministrazioni Di vaccino Anche in assenza Di direttiva ministeriale Altrimenti Campacavallo Mentre L'intervista Che vi segnalo A pagina 5 Del Corriere Adriatico Di questa mattina È al primario Del reparto Di rianimazione Dall'ospedale Carlo Urbano Di Iesi Ovvero Il dottor Tonino Bernacconi Di 61 anni Che racconta E risponde Alle domande Di Maria Cristina Benedetti Su questa Situazione attuale Allora Intanto È interessante Perché Dice Siamo entrati Nella fase 3 Sabato Nel mio reparto Quindi all'ospedale Di Iesi È stato occupato Per la prima volta Il quindicesimo letto L'ultimo A disposizione Almeno per ora Perché dice Almeno per ora Perché Dice una cosa importante Questo primario Dice Il limite è 15 Però se dobbiamo Aggiungere un altro Lo faremo Se dobbiamo Aggiungere Il diciassettesimo Lo faremo Nel senso che Non possiamo Porci dei limiti Non possiamo Crearlo quando non serve Questo posto letto Ma siamo pronti A farlo subito In caso di necessità Ora procediamo Per comparazione Siamo dove eravamo Lo scorso anno Perché guardate Che soltanto Il caso vuole Che oggi O meglio ieri Giorno della festa Da donna In provincia di Peso Urbino Scattava poi Più o meno Il lockdown E quindi Oggi A distanza Esattamente Di un anno Ci ritroviamo Come appunto 365 giorni fa Quindi insomma Non è cambiato Niente Siamo ancora qua I numeri questa volta Riguardano però Tutta la regione Rispetto Alla prima Ondata Perché Perché Lo scorso marzo Aiutavamo Soprattutto Pesaro Ed intorni Nel 2020 Che erano Sotto scacco Dal virus Ora invece Siamo tutti messi Allo stesso modo La variante inglese Ha spiazzato La domanda Il brutto Ecco qua la risposta Interessante Che già più o meno Sappiamo Il brutto È che utilizza i giovani Per diffondersi meglio Questa variante inglese Loro I giovani Si ammalano meno Però Ma trasmettono molto Era prevedibile Come ogni essere vivente Anche il coronavirus Cambia Muta Si adatta Per continuare a esistere E così vale anche per le piante Questa invece La pagina del Carlino Il virus ha ucciso Oltre 100.000 italiani Il tasso di letalità È tra i più alti del mondo Troppi ritardi Nei mesi estivi Sono mancati investimenti Nella sanità E un progetto nazionale Sui vaccini Per prepararsi All'ondata invernale Intanto in Inghilterra Si torna a scuola Da oggi Mentre ieri mattina Appunto alle 10 È suonata La campanella Non alle 10 Per circa 10 milioni Di studenti britannici Spero prima Tornati in aula Dopo quasi tre mesi Di didattica A distanza Mentre In Brasile E questa è la situazione Che un po' preoccupa di più Il governo americano Ritiene che l'avanzata Del virus in Brasile Sia una minaccia globale Per John Biden Il Brasile è diventato Estremamente pericoloso Dopo la comparsa Del ceppo amazzonica La cosiddetta P1 Questa è una cosa nuova Coprifuoco lockdown Stretta da lunedì Draghi L'ora più buia Ma si vede la fine Preoccupa La risalita dell'indice Di trasmissione del virus Il Premier dice Dobbiamo tutti Fare qualche cosa Di più contro La pandemia Ora Credo sia interessante Ci soffermiamo Un attimo su questo Perché Dicevamo all'inizio Che solo con un piano Di vaccinazione Importante Se ne esce fuori Allora Sentiamo che cosa Ha detto Draghi Nel piano di vaccinazione Che nei prossimi giorni Sarà decisamente potenziato E qui Lo prendiamo Come promessa Decisamente potenziato Ha detto il Premier Si privilegeranno Le persone più fragili E le categorie a rischio Aspettare il proprio turno Modo anche per tutelare La salute Nei nostri concittadini Più deboli Però Dice Qua sotto Questo significa Che alla prosecuzione Della vaccinazione Degli ultraottantenni Poi del personale sanitario Degli ospiti Delle case di riposo Eccetera Si andrà avanti Per proteggere i malati cronici Che però Saranno vaccinati Con Pfizer e Moderna I disabili E i loro familiari E di tre categorie La cui vaccinazione È già iniziata Ovvero Le forze dell'ordine Le forze armate Il personale della scuola I personali detenuti Delle carceri E poi E poi cosa succederà Si passerà A quelli che hanno Ultra settantanni Quindi gli ultra settantenni Che però Potranno essere vaccinati Con AstraZeneca Poi Tra le ipotesi Come si dice Nell'articolo C'è anche Quello di anticipare Il coprifuoco Di qualche ora Si sta pensando Di fare questo Andiamo sulla pagina 2 Invece Sarà zona rossa Almeno fino a domenica Acquaroli Forte incremento Dei contagi Firmata l'ordinanza In vigore da domani Ad un anno Esatto Dal lockdown Tornano le chiusure Ricci Il sindaco di Pesaro Convinto di aver resistito Più di altri Grazie ai suoi screening Chiudono i negozi Anche le estetiste I barbieri Scuole Didattica A distanza per tutti Sempre dal carino di Pesaro Resteranno aperte Solo le attività commerciali Essenziali Spostamenti Per comprovati motivi Lo sport Si fa soltanto Vicino A casa Dunque Siamo di nuovo A parlare Di restrizioni In zona rossa Allora Che cosa si può fare Cari telespettatori Da domani Che cosa si può fare Allora Si può fare Soltanto Le famose tre cose Quindi non si può uscire E' meglio stare Tranquillamente a casa E fare come abbiamo fatto A marzo Dell'anno scorso Quindi vietati gli spostamenti Sia nel proprio comune Che verso altri comuni Quindi si esce di casa Solo per andare A fare la spesa Una persona Soltanto della famiglia Non si può andare Tutta la famigliola In allegria Mano nella mano Si va a prendere Soltanto Le cose essenziali Si va in farmacia Se uno bisogna Andare in farmacia Si va Si esce Soltanto In caso di necessità E in questo caso Speriamo che i controlli Siano di quelli Ferrei Vietati gli spostamenti Ovviamente da una regione All'altra Figuriamoci Mentre bar Ristoranti Chiusi ovviamente O meglio Aperti Ma solo Per l'asporto Quindi Dall'asporto Dalle 5 Del mattino Fino alle 18 Poi Insomma Fino alle 22 Per Le cene Che uno vuole andare A prendere Qualche pizza Si può andare a prendere Eccetera Però l'asporto E' consentito Però esclusivamente Fino alle 18 Ecco Questo è importante Lo andiamo a sottolineare qua Lo vediamo Ecco qua Per i soggetti Che svolgono Come attività prevalente Uno Una di quelle Identificate Dei codici Ateco 563 Bar E altri esercizi Simili senza cucina L'asporto E' consentito Fino alle 18 Dove non c'è la cucina Le attività commerciali Abbiamo detto Insomma Sono chiusi i mercati Ad eccezione Delle attività dirette Alla vendita Di soli generi alimentari Anche i negozi di fiori Tutte le scuole Di ogni ordine grado Quindi asili Elementari Tutto chiuso I datori di lavoro Pubblici Limitano la presenza Del personale Nei luoghi di lavoro Per assicurare Esclusivamente Le attività Che ritengono Indifferibili E che richiedono Necessariamente Tale presenza Anche in ragione Della gestione Dell'emergenza Tutti gli altri Dipendenti pubblici Staranno ovviamente A casa Attività motori E sportiva Da domani Tutti di nuovo Con la tuta Scarpe da ginnastica E si torna a essere Grandi maratoneti Quindi però Sospese Le competizioni sportive Salvo quelle riconosciute Di interesse nazionale Dal CONI Dal comitato Paralimpico Sospese Tutte le attività Nei centri sportivi Resta consentito Ecco E quindi qui Ripeto Consentiti Svolgere attività Motoria Nei pressi Della propria abitazione E attività sportiva Solo all'aperto In forma individuale Però Io credo che invece Ecco Piuttosto che rinchiudersi In casa Chi può Sì Lì fuori casa Si possa prendere Un po' D'aria buona Ora Questa è l'altra notizia Invece sul resto Del carlino A pagina 4 Ora troviamo Solo alla variante inglese Bisognava chiudere tutto subito Il primario Della virologia Di Torrette I tamponi Dicono Dice Positivi al virus Originario Ormai sono una rarità Quindi abbiamo soltanto Quella inglese La riapertura La riapertura dell'epifania Dopo le chiusure natalizie Ha rappresentato Un volano Per la risalita Dei contagi Emergenza ospedale Presidente di Presidente di Antico Dice Ricorso più ampio Alle misure Alternative Mentre Sulla Pagina 7 Ecco Questa È un'altra buona notizia Perlomeno Forse anche qui Bisognava muoversi Un po' Prima Ma insomma Qualcuno Evidentemente Vabbè Lasciamo stare L'avvicinazione Si faranno All'Iper Rossini Ok A 1200 metri quadrati Del ristorante Quindi ieri mattina C'è stato un sopralluogo Ci vorranno circa Tre settimane Ancora Quindi tre settimane Per predisporlo In situazioni di emergenza Anche un giorno È un secolo Ma comunque Nel frattempo Si andrà avanti Con il Monaldi Saranno allestite 16 postazioni Per 2000 somministrazioni Vaccinali Disponibile anche Un capanone di Xanitalia A Villa Fastigi Il virus Non corre Solo sulla costa Però In una settimana Il 30% Di casi in più In diversi comuni Della Vallata La curva indecisa Risalita Buma Mondolfo Appello Del sindaco Guardate Com'è In questo momento La curva Del Val Cesano Con Queste Queste località Appunto Mondolfo Che ha 54 Da 54 positivi Che erano Il 22 di febbraio All'8 marzo Sono diventati 89 Vedete come C'è stato questo aumento Soprattutto a Mondolfo Perché per il resto Mi pare così A colpo d'occhio Che addirittura Qualcuno Come San Costanzo È diminuito Terra Roveris Che è lo stesso Da 15 a 28 Insomma C'è stato un bel aumento Vaccini Invece a Urbino Arrivano Con due ore Di ritardo E succede Il caos Per superare Il blackout È stato necessario Andare a prenderli A Civitanova Marche Dove erano stati Stoccati Nessuno Praticamente Li consegnava La scelta infelice Collasso In una situazione Mai vista Prima Neanche nel terribile Marzo 2020 Non ci sono posti Non ce la facciamo più Dicono Già in mattinata Si era presa Questa decisione Poi rientrata La suppressione Dell'Aso Infine La deriva serale E lo stop Senza precedenti E dire che abbiamo pure Il covid hospital A Civitanova Quindi immaginate Un po' come siamo messi Anche se Anche se Ma non abbiamo tempo Per fare ulteriori analisi Contagi in salita Anche a Senigallia Tito del Carlino Senigallia Conta il 30% in più In una settimana I positivi passano Da 3,72 A 4,88 Ma l'incidenza Consentirebbe L'apertura Delle scuole Belvedere Barbare Castellione Di Suasa Si sono salvate Dall'aumento Dei casi Mentre Andiamo a fare la spesa Hanno detto ai carabinieri Ma il supermercato è chiuso 4 persone multate I carabinieri Hanno sorpreso I ragazzi in una macchina Sola Dopo le 20 Hanno fatto loro Il verbale Per la violazione Della zona rossa E per i piccoli negozi Come scrive Titolo del Corriere Il colpo di grazia Inferto da gennaio Dati impietosi Per il primo mese dell'anno Reggono solo gli alimentari Abbigliamento Calzature Accessori A picco Il calo Registrato Del 41% Questo È il dato Che riguarda Il calo delle vendite Al dettaglio Nella moda Meno 41% A gennaio E Meno 23,3% A febbraio Andiamo ancora avanti La pagina di Fano Del Carlino Una sposa in rosso E 20 uomini Muti Per celebrare la donna Così la città di Fano Ha voluto suggellare L'8 marzo Con una iniziativa Che accende Riflettori Sulla violenza di genere Acuita Dalla Pandemia Dalla Pandemia Io e mio marito Abbiamo voluto esserci Perché l'amore vero Esiste Poi la pagina di Fano Invece Pagina 16 Riguarda una notizia di cronaca Un uomo unfanese Unfanese Che è morto In un incendio Divampato In una casa A Bergamo Qui le immagini La foto Dall'eco di Bergamo Le fiamme Nell'appartamento Di Oltre il Colle In cui viveva Davide Magri Commerciante d'arte Originario di Fano Ma da 5 anni Residente In un piccolo paese Appunto In provincia Di Bergamo È successo Intorno alle 7 Di ieri mattina E a trovare Il corpo senza vita Di appunto Magri Nato A Fano Sono stati Vigili del fuoco Al momento Del sopralluogo Dopo lo spugnimento Delle fiamme Poi c'è un'intervista Pagina 17 Invece Realizzata Da Silvano Clappis A Regista Castellani Ho trovato Quassù Il set Della mia anima Dopo i fasti internazionali Il regista Castellani Sta traslocando In questi giorni Nella casa del prelato Ho tante cose Da riempire Un museo Mi piacerebbe molto Creare un fondo Legato al cinema Del novecento Il premio Che amo di più Il Leone d'oro Nel 1964 L'attore invece Tino Buazzelli E lo vediamo In una fotografia Qui Il regista fanese Leandro Castellani Poi ho visto un lupo E mi era in corso Questa è la fotografia Guardate Il lupo avvistato Screen del video Di Filippo Cardinale Attenti al lupo Avrebbe detto Lucio Dalla Qualche abitante Di Osteria Nuova Invece a Pesaro Ha preso alla lettera Queste parole Della celebre canzone Spaventandosi Per l'improvviso incontro Con l'animale Accaduto domenica sera Intorno alle sette Intorno alle diciannove Di sera Nelle vie vicine Alla zona industriale Ecco la fotografia Appunto Con questo lupo In primo piano Poi Incendio nel salotto Fumo uccide il cane Siamo a Urbino Le fiamme sono divampate Ieri mattina Da una presa elettrica In un'abitazione Di Monte Calvo In Foglia E poi la notizia Che Radio Veronica Torna E ha molto da dire Qui ci sono Alcune fotografie Di coloro Che faranno Cercheranno Tenteranno Di far rivivere Questa storica radio Che per tanti anni È stata una radio Straordinaria Una radio Che era un punto Di riferimento Per tutto il centro Italia Ebbene Questa radio Dopo purtroppo Le vicissitudini Dopo il declino Adesso Da oggi Cercherà Di risalire Chiaramente Non sarà Come prima Anche perché Se non altro Il bacino D'utenza Ahimè Ancora Un po' limitato Abbiamo infatti Due frequenze Da quello che si legge 92,9 per Pesaro E 92,7 per Urbino Oltre naturalmente Al web E quindi Chi vuole ascoltarla Può sentirla Attraverso Il web E qualcuno Dice appunto Anzi Claudio Salvi Chi ha scritto L'articolo Speriamo sia Davvero La volta Buona Intanto Lo sport Con questa pagina 5 Questo strascico Dopo la partita Con la Fermana Cornacchini Che è un fanese Che allena La Fermana Dice Da fanese Mi sono vergognato Il derby Alma Fermana Lascia strascichi Il presidente Offidani Inibito Fino al 15 marzo Per espressioni Riguardose Verso Il tecnico Ospite Poi Offidani Si è scusato Insomma Passato il bollore Procurato Dallo svolgimento Della partita Non ci sarebbero Stati strascichi E Cornacchini Ha detto Semplicemente Per me Nessun problema Insomma La cosa è finita lì Anche se da fanese Un po' Mi sono vergognato A sentire certe frasi Però ognuno Ha il suo modo Di comportarsi E quindi È andata così Tant'è che La società Poi è stata L'Almecamentus Fan È stata Multata Anche con 1500 euro Di multa Appunto Perché Alcuni tesserati Che erano in tribuna Più volte Durante la gara Si sono rivolti All'arbitro Insomma Insultandola Addirittura con bestemmia Una roba Fuori di testa Comunque Questo è E con questo Chiudiamo la nostra Rassegna stampa Il commento Alla stampa del giorno Anche se abbiamo commentato poco Siamo andati spediti Perché le notizie Erano tante Allora Questa sera Alle 20 e 30 Abbiamo il telegiornale Poi subito dopo Invece Guarda chi c'è Con Paolo Notari Che intervisterà Selina Abatelli Che è la creatrice Della fattoria Dei sogni Appuntamento Intorno alle 21 Di questa sera Noi invece L'appuntamento Ce lo diamo Alle 20 e 30 Con il consueto Appuntamento informativo E il nostro telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti